Vai vicine dai No ma non vi devo fare la foto eh Che vuoi fare? No, è per guardarvi meglio Ah, c'è! Vi vedo dal display qua No ma è carina come cosa Vero che è carina come cosa? Ti senti in soggezione? Noo Dai, allora Danina Bionda e Samantha in questo momento ha il microfono Dai, visto che Samantha non è capace di cantare Nel senso che non canta canzoni normali Giusto? Allora, Danina Bionda si è offerta O di cantare una canzone o di raccontare una barzelletta Vero? Si Si dai, allora, canta una canzone o racconta una barzelletta Quelle delle due? Eh, racconta una barzelletta Racconti la barzelletta Vai, la barzelletta per radio di Danina Bionda Vai! Allora, una signora sposa le sue tre figlie lo stesso giorno Lei sposa le tre figlie? O le tre figlie si sposano? Le tre figlie si sposano Ah ok, la signora dice Oggi le mie tre figlie si sono sposate Si sposano però lo stesso giorno Lo stesso giorno Allora gli dice alle tre figlie Sì Domani sera telefonatemi che voglio sapere Com'è andata la prima notte di nozze Se avete consumato Ah la mamma chiede questo? Si e gli fa però ditemi patate Aspetta Samantha avvicinate un po' Vare che mi devi tenere compagnia Ditemi patate cosa vuol dire? Se avete consumato ditemi patate Ah ok per non dire mamma ho consumato ditemi patata Ok va bene Telefono alla prima gli fa allora patate al mattino e patate alla sera Telefono alla seconda gli dice patate al mattino patate al pomeriggio patate alla sera Però niente male Telefono alla terza e la terza gli dice patate al mattino patate al pomeriggio patate alla sera Lecca pure la padella Ma dai Noi 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 Noi